Avendo oggetti separati, in questo caso, le sezioni di una linea spezzata sul pannello principale per attivare la redazione insieme, per unire oggetti simili. Attivare un comando per selezionare e specificare il comando completo di premere il tasto invio, ora, selezionare l'oggetto, abbiamo fuse, mentre altri sono rimasti distinti. Grazie a tutti.